buonasera eccoci qui allora vi ho scritto scandaloso è lo scandalo per le frasi di matteo salvini sul ricorso inconsciente all'aborto la legge non è una forma di controllo delle nascite se cittadine straniere si presentano a chiedere la sesta settima interruzione di gravidanza qualcosa lo stato deve fare ne parleremo perché ho visto veramente una polemica volgare animalesca rispetto a una frase innocente legata a un dato reale che chiunque è in grado di appurare questa difesa così senza senza tetto nel legge veramente è veramente orribile vabbè che qualunque cosa faccia dica salvini va 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 strumentalizzata e va demonizzata ma non esageriamo elezioni elezioni è così attenzione calma vediamo questo governo litiga su tutto non combina niente le decreti sicurezza che non riesce a fare e ne parleremo alla prescrizione che ancora tutta da discutere alle intercettazioni che sono ancora da incominciare poi vi voglio leggere due un intellettuale francese di origine tunesina che si chiama e donald trump che denunciano tutti e due con diverse parole diverse ispirazione diversa cultura ma altrettanta preoccupazione l'islamizzazione d'europa e d'altronde oggi leggevo il dato di un'intera provincia della svezia in cui sono in maggioranza gli arabi e i bambini arabi in sei scuole materne su nove voi che dite è finita la svezia o no io dico di sì se a voi non sembra così parliamone ma a me sembra grave che non vi sembri così l'islamizzazione dell'europa vi dicevo coronavirus ancora tante 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 bugie davvero il governatore della toscana non intende mettere in quarantena i cinesi che torna dalle vacanze aspetta che lo facciano volontariamente perché sennò sarebbe razzismo e che ragazzi guardate sapete qual è la verità su questa pandemia su questo coronavirus che renderlo pericolosissimo lunghissimo probabilmente nel tempo e quindi conseguenza di profonda recessione in tutto il mondo in ispecie in europa in germania italia che super esportano e hanno relazioni commerciali forti con la cina sapete cosa sono due cose il fatto è quello è un orrendo regime comunista di mandarini che mentono su tutto e tutti hanno mentito all'inizio due parole quel per povero dottore cristiano che tra le cose che gli hanno detto e gli hanno detto quando lui all'inizio ha detto qui c'è qualcosa che non va in questo virus e gli hanno detto tu vuoi turbare turbare la gente fare cose sediziose eccetera gli hanno detto perché sei cristiano ha sentito una parola da parte del vaticano gesù maria e dicevo e da una parte quindi l'atteggiamento incredibile della cina dell'orientazione mondiale della sanità che che finge che tutto vada perché ha finto però a lungo che tutto andasse bene e dall'altra la stupidità politica li corrette dei progressisti del mondo per cui capito la quarantena è l'unica misura efficace queste cose si fa la quarantena si mette in quarantena così si salvano le vite delle persone sì e si esce rapidamente invece avete visto che hanno combinato con quella nave quella nave è diventata un focolare di infezionale ma ne parliamo se ci siete ci siete 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 arrivati ci siamo ok allora incomincio con un sondaggio perché un sondaggio ogni tanto ci va bene da tanto che non ve lo davo swg di 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 lunedì sera 17 febbraio lega 32 4 per cento come vedete i funerali sono rinviati partito democratico 20,6 anche in questo caso perdono 0,1 per cento ma non conta il partito democratico è perché è grillizzato grillinizzato vuoi perché pescare grillini è il recupero movimento 5 stelle perde un punto a settimana 13 per cento fratelli d'italia recupera guadagna ogni settimana 11,3 per cento forza italia ristagna non c'è niente da fare ristagna abbastanza poco però se non rilancia un'agenda liberale se non trova una qualche un qualche sporone comunque è il 5,1 per cento questo vuole dire che quasi vicino al 50 per cento il centro destra parliamoci chiaro e attenzione a fare questi conti una campagna elettorale non è ancora iniziata quando inizia una campagna elettorale rispetto a quando finisce bisogna vedere quanti voti si è riuscito ad attirare quanti elettori si è riuscito ad attirare italia viva 4 e 2 per cento che è un dato l'usinghiero rispetto al passato rispetto alle passate settimane mi dicevo swg quindi fatevi due conti guardate come siamo messi e vedrete che tra il centro destra e il centro sinistra c'è uno scarto di più del 10 per cento ok cominciamo con gli argomenti voglio cominciare con la politica allora vi dico molto rapidamente come stanno le cose in realtà ieri su decreto sicurezza non è andata poi adesso cancellare salvini ve lo ricordate il tiro terrorista di dire buca non l'hanno cancellati i decreti sicurezza nonostante ci fosse una grossa pressione del pd perché non li hanno cancellati nonostante tante chiacchiere anche del ministro lamorgese i decreti di sicurezza e nonostante quelle di perché i 5 stelle non se la sentono intanto perché stanno di avere un elettorato quel poco che gli resta di elettorato fortemente favorevole proprio perché l'hanno fatta anche loro questa politica non l'ha fatta da solo salvini apro e chiudo parentesi a laterale con la crescenda dell'autorizzazione a procedere nella quale persino antonio di pietro metà a citare antonio di pietro mi addolora vi giuro un antonio di pietro ieri sera spiegava in una trasmissione televisiva quarta repubblica da nicola porro diceva ma scusate ma evidente che io avrei votato l'autorizzazione a procedere perché io sono un magistrato perché sono un progressista e dico che bisogna accogliere tutti pietro e pietro ciò non toglie che tutti devono andare a eccitare le missive di conte quelle di toninelli quelle di come si chiama di buona fede cioè tutti quanti a rassicurare in realtà o al massimo esprime una minima preoccupazione nei confronti di quelle vicende quindi dice se finisce a processo a processo ci devono andare tutti perché a quel punto tu richiami anche a loro non c'è il minimo dubbio vabbè vi dicevo tornando quindi al discorso l'azzeramento dei decreti non c'è stato perché è stato proprio il reggente del pendimento assellati vito crimi a difendere i provvedimenti firmati dal segretario della lega matteo salvini subito stoppato dal presidente della commissione affari costituzionali giuseppe breccia che è il suo compagno di partito ma che sta con fico quindi sta su posizioni anti leghiste filo e filo pd e quindi è cominciata la rissa interna a loro crimi ha lasciato il vertice prima del tempo e poi ha diramato una nota durissima i decreti sicurezza sono stati concepiti sulla scorta di una esigenza reale per affrontare criticità tutti evidenti capito l'antifona e quindi non si mettono d'accordo questi e ancora sempre vito crimi non è un leghista che parla tornare indietro vanificherebbe positivi risultati ottenuti ritengo che si debba affrontare questo grande tema senza assumere posizioni preconcette ma lavorando oggi in vista del prossimo futuro insomma nisma i vertici pentastellati insomma sono disponibili a migliorare il dl salvini magari venendo del tutto incontro a quelle rilevi che aveva fatto a suo tempo mattarella ma non andare oltre quei rilevi posti dal capo dello stato nelle lettere inviate al premier conte nell'ottobre 2018 e nell'agosto 2019 al vertice della serie di governo alla quale hanno partecipato sia il ministro dell'interno lamorgese che il responsabile della difesa guerini si è deciso di andare verso due dl separati quindi uno sulla sicurezza l'altro sull'immigrazione ma non si è scesi nel dettaglio perché non sono d'accordo e quel che ha portato il titolare del liminale è rimasto sul tavolo come dei testi erano dei testi da di proposte ma non preconfezionati e quindi tutte le interviste che ha fatto in questi giorni nella murgese se li dovrebbe come dire deglutire ci vorrà del tempo per raggiungere l'intesa della maggioranza ci vorrà del tempo e anche se loro promettono che lo faranno vabbè discorso di apertura al vertice ruolo dei magistrati il braccio di ferro e principalmente sui principi sui permessi umanitari cinque stelle non è d'accordo sulla necessità di allargare il numero di permessi rispetto alle scelte molto rigorose fatte dal ministro dell'interno salvini questa brescia pur sottolineando che non si tratta di abrogare i decreti ha detto che bisogna usare le categorie più deboli frase bella che significa assolutamente nulla non si è parlato della necessità di reintrodurre l'escrizione dell'anagrafe comunale ma dice la depetris pericolosa comunista storica siamo tutti e ora presidente del gruppo misso al senato siamo tutti d'accordo anche cinque stelle perché l'iscrizione è legata al tema del reddito di cittadinanza poveri noi come se non ci avessimo rimesso abbastanza soldi con questo cedimento alle richieste di cinque stelle fatto dal governo giallo verde un anno due anni fa un anno e mezzo fa un anno e mezzo fa anche sugli spra siamo d'accordo che bisogna reintrodurli il lancia frato gli anni che ha proposto il superamento della bossi fino insomma ci sono le estreme sinistre che si lanciano verso l'apertura totale si tolgono le maxi multe questo è grave perché significa lasciare libertà di continuare infrangere a leggere alle navi delle ong che 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 violano il divieto d'ingresso nelle acque italiane si tornano le vecchie multe inutili da 10 mila euro e da 50 mila euro fino a 50 mila euro via anche la confisca della nave rea di non aver rispettato il divieto e oltre all'ampiramento della tipologia dei permessi speciali umanitari è previsto l'ok al ripristino della discrezionalità del magistrato che è chiamato a decidere la tenuità o meno dei reati di oltraggio violenza minaccia pubblico ufficiale insomma tutto molto annacquato tutto molto indebolito tutto viene privato di quel rigore quel senso di urgenza di necessità che avevano provocato che avevano ottenuto dei risultati il coraggio però di aprire completamente stavo per dire le gambe invece scusatemi i porti non ce l'hanno avuto perché perché addirittura dice dice addirittura va ripristinata una collegialità nelle nelle scelte dice la pinotti salvini e salvini cancellare di credito di sicurezza risposto salvini significa aiutare la mafia di spacciatori di droga e in questi giorni significa anche il lassismo con i barconi significa anche correre il rischio di fare entrare persone che portano malattie e guardate che non è necessario il il coronavirus c'è la tubercolosi che è endemica che 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 è diffusissima in certe zone dell'africa e in questi centri in cui si raccolgono non è del tutto parliamoci chiari parliamoci chiari è così scandaloso aborto o scandaloso salvini o scandalosa la reazione guardate la faccio breve allora poi mi leggo un po di commenti allora salvini quello detto salvini credo che lo sappiate più o meno tutti domenica pomeriggio parlando a una riunione un convegno per roma di roma capitale a rappresentanti delle associazioni professionali imprenditoriali romane lanciando la campagna per roma che sarà se questa non si leva di torno tra un anno poco più di un anno salvini a un certo punto ha detto l'aborto parlava di costi della sanità il contesto era questo premetto che un aborto costa lo stato otto nelle regioni e lo stato 8 9 mila euro 8 9 mila euro e lui ha detto se si prese l'aborto è un diritto ed è una scelta delle donne per sé per la propria vita non faccio un discorso morale vi dico però che se come mi hanno detto si presentano a pronto soccorso le donne che sono la sesta settima interruzione di credenza è una scelta uno stile di vita incivile qualcosa lo stato dovrebbe fare questo ha detto e io sfido chiunque a dire che ha detto una cosa misogina grave fascista che mette in discussione i diritti delle donne giù le zampe dalle donne nicola zingretti parla un linguaggio elementare come i ragazzini giù le la risposta da giù le zampe dalle donne e allora tra le tra le polemiche ci sono state una una mi ha colpito particolarmente quella ieri sera stasera italia di barbara palombelli giornalista che io apprezzo e stimola tanti anni che mi capita spesso di essere ospite a stasera italia ieri sera c'era roberto d'agostino è collegato un bel pietro alla fine e c'era salvini come ospite alla fine barbara palombelli gli ha detto le offre l'occasione di scusarsi con le donne italiane ecco io non ritengo barbara che salini dovesse scusarsi con le donne italiane ritengo anche che ti abbia risposto in modo fin troppo debole blando avrebbe dovuto incazzarsi di brutto per questa tua frase e perché perché non ha portato alcun attacco alla legge ha portato un attacco all'uso orrendo di quella legge come forma di controllo delle nascite come forma di 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 al posto di un preservativo al posto di una spirale al posto di una pillola questo ha detto si rivolgeva a cittadine straniere ma se ci usi il favore tu e tutte le altre indignate speciali d'italia e indignati speciali d'italia che magari tornano a casa e picchiano le mogli però poi fanno gli indignati speciali se ci usi il favore di passare mezza giornata sotto il colnato di san pietro dove arrivano rom nigeriane rumene disperate a cercare aiuto o vai al san camillo al pronto soccorso sì al pronto soccorso perché anche se avete preso in giro salvini per aver parlato di pronto soccorso è al pronto soccorso che vanno queste persone intanto ci sono i pronto soccorso ostetico ginecologico sappiate ma perché vanno al pronto soccorso perché vanno a farsi diagnosticare la gravidanza vanno subito a dichiarare che hanno problemi psicologici e o fisici perciò richiedono l'interruzione e quindi si avvia l'iter della 194 ecco perché vanno al pronto soccorso ed ecco perché dichiarano di avere che tra i loro problemi psicologici e fisici c'è di essere la sesta settima gravidanza dunque è evidente che usano lo stato italiano quella clinica la regione e la legge dell'aborto come mezzo di controllo delle nascite e questo non può essere e all'altra osservazione che voi fate che ha fatto anche ieri sera barbara palombelli a matteo salvini lei sa che ormai tutti usano la pillola del giorno dopo come cavolo si chiama ru qualcosa io vi dico che esistono studi anche importanti anche fatti da personaggi legati al mondo cosiddetto progressista della sinistra che dicono che che dicono che è come quella della come la cammina gabanelli che dicono che negli ultimi tempi è gravissimo vedere come si siano abbassate i dati di vendita dei dati di uso della spirale acquisto di spirale acquisto di preservativo e alzate enormemente i dati di i dati di acquisto di questa pillola quindi che ci sono giovanissime italiane in questo caso che usano la pillola del giorno dopo come anticoncezionale vi sta bene a voi questo vi fa bene che le vostre figlie facciano un uso del genere della pillola anticoncezionale del giorno dopo che comunque non farà danno ma bene non fa e soprattutto è un metodo arretrato dal punto di vista sociale culturale etico è arretrato le gravidanze desiderate vanno evitate una toppa ce la metti una volta ce la metti due volte nella vita di una donna non ce la metti sette otto volte oppure non ricordi alla pillola del giorno dopo allora e poi figuratevi se quel tipo di donne di cui parlavamo prima cioè extracomunitarie donne dell'est donne messe sulla strada donne rom usano la pillola il giorno dopo che va presa appunto in un limite di tempo che al massimo di 48 ore e allora perché tante stronzate ma chi ve lo fa fare solo per fare polemica politica davvero credete che le donne si difendano così io no io dico una donna si difende proponendo ai politici centri di ascolto in ogni ospedale che suggeriscano alle donne anche gratuitamente di mettere di far uso per esempio di spirale è probabile è possibile che se non ci sono rischi se non ci sono costi queste donne che certamente soffrono sulla loro pelle con dolore e con e con deterioramento del fisico questa situazione accettino questo devi fare tanto ti costa sempre meno che non che non tutti questi aborti e questo è veramente vergognoso che la polemica politica si sia ridotta a questo ve lo dico con grande non stanchezza perché tanto io non mi stanco mai ma con grande profonda indignazione ci sono commenti grazie mi leggo un po di commenti di passare velocemente a questa cosa sull'islam vediamo quanto tempo ho parlato già 20 minuti è vero quasi 20 minuti facciamo un po di ma che santi c'ha sta moscia della parola ma non bella una bravissima giornalista è sempre stata una donna progressista di sinistra ha ritenuto però ha capito male questo io dico ha capito male ha interpretato male è pazzesco come le donne non capiscano che fanno del male loro stesse perché l'aborto è sempre una ferita insanabile e ieri sera inguardabile stasera italia sempre più incarogniti quando ci ospite salvini in effetti quello è stato un agguato e manuela zeni e comunque sinistri dovrebbero andare nelle parti di ossettrici italiani pubblici a vedere chi c'è a fare gli aborti sono d'accordo con te grazie daniela grazie luciano ogni parola in più da denuncia non ha detto niente di male salvini penso che qualcosa sbagliano anche le donne con le gravidanze la pirola il giorno dopo è immorale è una bomba ormonale carla fabretti grazie a rosa carla bellissima maria giovanna è vero i dati confermano l'uso della pirola il giorno dopo come metodo anticoncezionale vi chiedo se ci sono delle dei medici dottori maschi o femmine che siano e che si occupano di queste cose io so che ci sono più del 70 per cento in italia di obiettori di coscienza non è una cosa che mi entusiasmi anche se ve la riconosco penso che non dovreste lavorare negli ospedali pubblici se siete obiettori di coscienza il numero così massiccio perché poi significa che lo fanno sempre lo stesso piccolo numero di persone e da che hanno fatto i medici e ginecologi magari per far nascere se ritrovano a far solo non nascere però a parte questa quello che è un mio dubbio ma nel senso che tutti sono liberi fare obiezioni di coscienza ma allora non devi stare là in una struttura pubblica credo io ma a parte tutto questo che è che una mia considerazione all'atera in questo momento mi piacerebbe sapere qual è l'esperienza vostra se siccome hanno detto a salvinia hanno detto una cazzata questa è stata la cosa che ha dominato in questi giorni a salvinia hanno detto una cazzata e ci ha creduto come ha creduto che il ragazzino lì che il ragazzo tunisino a bologna fosse uno spacciatore fatto stacca di tre giorni dopo c'è stato uno di quelle retate incredibili va bene io vorrei sapere se avete se avete esperienza diretta scrivetemelo se avete su facebook avete esperienza diretta di cose di questo genere in quantità tale da diventare notizia cioè non una in un anno cioè donne straniere rom extracomunitarie dell'est dell'africa venute in accoglienza che vengono alla sesta settima gravidanza e a chiedere ancora di far ricorso buonasera maria giovanna avere dati confermano l'uso della prima del giorno dopo come metodo anticoncezionale e pillola per la salute della donna pericolosa dice marta gaudenzi omar bassani mera strumentalizzazione contro matteo salvini calorina pantani pila del giorno dopo è un abominio perché certe signori dell'informazione non vanno a fare informazioni in quei centri io non capisco perché le donne dice anna si siano scandalizzate per le parole dette da salvini eppure ha parlato in loro difesa emilia gabelli grazie grazie a riccardo nuzzi e solo perché qualsiasi cosa dica salvini deve essere sempre travisata padrizia nobile salvini non doveva scusarsi non è possibile non poter dire niente senza essere lapidati fan in riva le nazi femministe sono sempre pronte a gridare al macista salvini ma mai a dire una parola su certe culture che le donne le massacrano veramente va bene sono da siamo d'accordo su tutte queste cose vi leggo vi leggo solo tra poco tempo devo parlare del coronavirus voglio dire questa cosa di trump poi il il saggista franco tonesino iv mamu che ha scritto un libro di recente e che ha fatto delle lunghe importanti dichiarazioni che sono l'europa si è resa all'islamismo e vive segregato perché accuse di nazismo perché ormai la francia ridotta così ve ne parlo la prossima volta perché ci tengo molto interessante l'intervista però vi dico cosa ha detto tra per un'intervista all'inglese san cosa ha detto che che riguarda noi perché queste breve le migrazioni di massa dal medio oriente dall'africa stanno cambiando in modo definitivo l'europa in peggio questo mi turba personalmente perché io sono figlio di due paesi europei e ho grande amore per le nazioni europee non dimenticate che sono praticamente un prodotto dell'unione europea tra scozi e germania mio padre era tedesco mia madre scozzese i politici europei devono agire rapidamente per provare a invertire la tendenza al cambiamento in atto in europa penso che quel che sta accadendo sia una vergogna consentire alle migrazioni di prendere piedi in europa è una vergogna consentire a milioni di persone di entrare è una vergogna penso che voi stiate perdendo la vostra cultura guardatevi intorno ci sono aree intende dire aree occupare occupate dall'islam che non esistevano fino a 10 15 anni fa vagli andare torto datemi della fascista a me a lui tanto non fate altro non voi che mi ascoltate in giro insomma c'è questa lunghissima intervista di cui vi parlerò un'altra volta e di lorenza formicola per la verità e e veniamo al coronavirus intanto le coronavirus vi dico molto banalmente che la banca d'affari giapponese nomura fa un calcolo di quello che ci rimetteremo e insomma arriveremo a meno 0,9 di pil cioè ci rimetteremo parecchio se dura un mese in tutto moltissimo se dura due mesi siamo morti se dura qualche mese allora se dura o no qualche mese di più o di troppo a che cosa è legato è legato al controllo che è stato fatto dall'inizio e su quale ora si comincia a capire che mentre la cina dispone di studi anche molto moderni e molto avanzati su questo tipo di virus dopo la SARS perché ha finanziato studi dopo la SARS ciò non toglie che sia ciò non toglie che abbia dei grandissimi problemi con questa perché cosa ha fatto ha fatto ha sottovalutato di almeno un mese un mese e mezzo e per lo meno 15 giorni da quando l'ha saputo Xi Jinping cioè il capo del governo cinese hanno aspettato un tempo prezioso a denunciare la cosa a chiudere isolare sarò poi adesso far diventare un'intera provincia con non so quanti milioni di abitanti un enorme campo di concentramento coatto perché poi diciamo che quando l'applicano loro la quarantena l'applicano in modo spietato e contemporaneamente il governo credo giapponese perché non vedo chi ha chi alti dare la responsabilità l'organizzazione mondiale della sanità ha consentito che la diamond princess la nave di crociera rimanesse lì ferma fino a tutt'oggi e da 4 sono diventati 400 gli infettati e quando gli americani si sono stufati hanno deciso di mandare a prendere loro con con l'elicotteri allora si è capito che bisognava scappare forse adesso anche i nostri torneranno non ho idea se di maio l'ha annunciato ieri se lo stiano facendo veramente però che cosa ti fa capire questo siccome questi erano quattro casi sono stati chiusi nelle cabine probabilmente la reazione che gli hanno fatto è per via aerea il che vuol dire che sono pericolosi anche gli aerei se che sono pericolosi tutti quei luoghi di ventilazione forzata per un certo periodo chiamiamoli così se tu non sai che se chi c'è salito è portatore asintomatico la fase asintomatica pare che sia più lunga di quello che è stato detto all'inizio è arrivato il primo caso in noi non sappiamo quanta gente quindi visto il ritardo con cui i cinesi hanno denunciato la cosa quanta gente abbia circolato per quanti paesi impunemente perché è così contemporaneamente c'è il caso in africa ieri sera ero a quarta repubblica il vecchio amico piero sanzonetti che più vecchio e più diventa comunista mi ha insolentito perché mi ha detto che io basta che faccio basta che me la prendo con i negri ha usato lui questo termine e sono contenta io sono chiesto quale tipo di controlli vengano fatti a lampedusa e in altri luoghi di sbarco e quello ha risposto il medico che gli era appena arrivato il termometro infrarosso quello per vedere se hai la febbre o no ma la febbre ce la puoi avere per un milione di motivi e non sappiamo non sappiamo in libia cosa ci sia sapete che cosa è il sistema sanitario africano inesistente o perlomeno esistente solo nelle grandi città se prende nazioni come la nigeria è un posto in cui c'è qualsiasi tipo di malattia come ancora debellata totalmente nel resto del mondo c'è ebola i bambini muoiono a decine di a milioni di morbillo c'è tubercolosi non c'è un sistema non ci sono sistemi sanitari ci sono interventi di organizzazione internazionale stati stranieri che tengono la situazione più o meno sotto controllo ci sono zone in mano alla guerriglia bohara ma già i disti non ne sai assolutamente niente parliamoci chiaro l'africa è un focolario di infezioni perché è più importante in periodo di coronavirus perché circola normalmente merci e persone della cina perché sono già molti anni che l'africa è diventata un luogo importante di influenza economiche economiche di massiccia di insediamento cinese se la sono presa l'africa i cinesi e adesso e adesso tu non sei in grado di controllare a chi abbiano trasmesso che cosa contemporaneamente viene fuori quindi quasi a ricapire di avere nozioni molto più chiare di quelle che abbiamo importanti virologi come per esempio l'aria capua dicono che i dati che abbiamo li devi moltiplicare per 10 e sono accorati nel dire che si è accettato un ritardo nel nell'isolare e denunciare la cosa accorati e spaventati quindi accorati e spaventati dobbiamo essere anche noi stando attenti a non essere razzisti ma essere spaventati chiedere quarantene chiedere precauzioni non vuol dire essere razzisti chi pensa questo è un mascalzone nascosto dietro il suo buonismo come probabilmente si nasconde dietro il buonismo il governatore rossi della toscana che ha fatto tutti i discorsi l'altro giorno che i due credo che siano 2500 forse di più che tornano sapete che in toscana c'è un grosso ci sono un sacco di cinesi fra rezzo e prato che hanno le loro fabbriche le loro industrie gioielli bigiotteria tessuti gli stracci di prato bene questi torno erano partiti prima che si sapesse del virus vedete il ritardo vedete il ritardo che vuol dire erano partiti per andare a fare le vacanze il capodanno cinese ora tornano perché vivono qui e lui dice niente quarantena obbligatoria e noi non siamo dei razzisti la quarantena la faranno volontaria perché questi probabilmente la quarantena la faranno volontaria perché e la loro comunità penserà a isolarli ma vi rendete conto della mancanza di capacità di essere autorevole di governare di amministrare a questo siamo ridotti voi davvero credete loro davvero credono che accettare identità diverse voglia dire rinunciare alla propria e non capiscono e così si pongono le basi per non avere una intanto perché gli altri pensino di soverchiarti e prendere il potere e poi perché tu necessariamente diventi più aggressivo e persino alla fine razzista imbecilli mi dai un po i commenti faccio due tre commenti e vi saluto perché su questi argomenti ragazzi veramente c'è da arrabbiarsi perché pensate concatenate tutto mettete tutto insieme evitando del denunciare quel poveretto di del medico che è morto 34 anni l'opulista quello che l'aveva detto per tempo e che poi è morto perché ha preso il contagio perché ha continuato a cercare di curare andrà morendo ha lasciato nel suo diario che tra l'altro sta circolando con milioni di visualizzazioni nonostante la censura è provocato anche una presa di coscienza con firme di membri dell'accademia intellettuali insomma voglio dire che c'è un minimo di rivolta politica su questa cosa in cina e lui ha detto è cristiano è morto dicendo spero ho fatto la mia missione da cristiano muoio in pace spero di avere accesso al paradiso la non vi cito le parole di san paolo che usa lui tra le cose di cui l'hanno accusato le autorità della della provincia della provincia incriminata è anche il fatto di spargere informazioni false sediziose perché un cristiano avete sentito due parole del vaticano voi per ricordare questo buon cristiano io no vabbè io ho visto invece sia sia presente mattarella che esponenti importanti del vaticano rassicurare che tutto va bene che gli vogliamo tanto bene cinesi così si va verso i suicidi sono degli incoscienti criminali adeguati e ridicoli dice gianluca catiuscia ho visto oggi che in toscana hanno creato un ambulatorio dove potrebbero andare a farti misurare la febbre e la gente che aspettate ho perso vabbè e la gente che lavora vicino era tutta arrabbiata quando riusciva a mandare via questo governo di incapaci in cina mi hanno detto che c'è la pena di morte per chi non denuncia la malattia ora sì ora fanno così prima prima non hanno creduto e volevano ammazzare chi la denunciava ora chi non la denuncia sono così sono 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 insieme degli orrendi comunisti degli orribili mandarini grazie la costaglia ciao maria giovanna grazie 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 nicola grazie sandra la capo ha detto pure che non c'è problema per quei pochi che vengono dall'africa con i barconi insomma la capo ha risposto una domanda precisa ma non ha detto niente di così preciso come dice rei sandra dice che fino a che quelli che vengono con i barconi non sono andati in contatto con decinesi per la coronavirus non c'è pericolo è ovvio che è così ma bisogna vedere se siamo sicuri di questo grazie a tutti siamo alla frutta voglio vedere i signori politici di sinistra salire su le onde in giro adesso col virus in giro per l'africa ma è normale che ci ritroviamo il governo chi non ha preso voti dice cinzia e cinzia ancora un'altra cinzia tassari siamo uno stato debole pagheremo caro tra pochi anni saremo finiti hanno venduto questo paese ma se non chiudono i porti a parte le ong su cui forse si potrà almeno salire per fare i controlli come si potrà controllare la costa da cui arrivano i barchini con cui i clandestini appena arrivati si spappagnano immediatamente e in primavera ovviamente gli arrivi aumenteranno e con questa preoccupazione condivisibile di rosanna io vi saluto l'appuntamento è giovedì dopodomani alle 19 e 30 con questa striscia maglie strette grazie buona serata ciao grazie a tutti